buongiorno buona giornata e buon fine settimana in questo sabato 10 10 2020 10 ottobre 2020 alle 7.35 quasi allora la finale del french open roland garrot 2020 sarà come di consueto diciamo nadal contro gioco vici visto che nadal è vero che ha vinto 3 a 0 contro schwarzman però ha dovuto un po faticare e ha dovuto faticare e non poco gioco vici che ha davvero sudato la vittoria contro zizipas abbattendolo per 3 a 2 quindi la finale sarà domenica mentre oggi ci sarà quella femminile grazie a tutti noi ci vediamo per i prossimi video buon proseguimento di giornata e alla prossima ciao